Le carenze di organico che stanno pesando enormemente sulle attività in municipio potrebbero azzoppare anche programmi di finanziamento sui quali l'amministrazione comunale ha puntato fin dal momento dell'insediamento tre anni fa e il caso di agenda urbana affidata ad uno staff che si è occupato di portare avanti tutte le procedure recuperando i ritardi del passato. Con la fase delle gare che avrebbe dovuto entrare nel vivo prima della pausa estiva qualcosa però sembra essersi inceppato. Senza un vero dirigente di riferimento l'iter si fa più complesso l'architetto Antonino Collura che ha coordinato l'autorità urbana ha dovuto fare un passo indietro per il contratto scaduto e ora anche la permanenza dell'ingegnere Fabio Filippino sembra praticamente da escludere data l'intenzione di lasciare l'incarico e palazzo di città. Andare avanti in queste condizioni e con le attività che dovrebbero essere completate entro il prossimo anno almeno in base al cronoprogramma della regione non sarà affatto facile. L'allarme l'ha lanciato il vice sindaco Terenziano Di Stefano che ha seguito tutta l'attività fin dall'inizio. Agenda urbana coordinata in municipio più volte risultata tra quelle maggiormente efficienti su tutta l'isola nonostante i risultati il timore di non vederne gli effetti pratici con lavori completati. I progetti per circa 20 milioni di euro toccano diversi ambiti dall'efficientamento energetico a nuove strutture pubbliche per anziani e donne vittime di violenza passando per un polo dell'infanzia e per la messa in sicurezza delle aree che costeggiano il costone borsellino. Per superare la paralisi si attende che possano essere approvati gli atti finanziari così da individuare almeno un nuovo dirigente. La finestra fornita dalla PNRR pare che non sia stata attivata con la dovuta accelerità. Sarà uno dei punti da verificare. La Giunta ha rilasciato una delibera recentemente che mette in salvo somme per circa 2 milioni di euro sempre legate ad agenda urbana che però cambiano fonte dall'FSE al programma operativo complementare EPOC 2014-2020. Rimangono tante le incertezze con in testa il rispetto dei termini fissati dalla regione che ha peraltro inserito agenda urbana con Gela e Butera anche nella prossima programmazione. Prima però bisognerebbe condurre in porto quella attuale. A Palermo invece il governo regionale è intervenuto direttamente blindando agenda urbana con Catania ed Acireale. In sostanza fondi per oltre 29 milioni di euro corrispondenti ad almeno 9 progetti sono stati spostati dal POFRES 2014-2020 al PSC che invece consentirà di avere a disposizione scadenze molto più lunghe fino al 2025. Quella etnea era una delle agende urbane più in ritardo con i cronoprogrammi e non avrebbe potuto rispettare le scadenze fissate per il prossimo anno. Il governo musumeci così gli garantisce due anni in più di fatto risolvendo quelle che erano indicate come criticità attuative.